Due ordinanze di custodia cautelare, una alla Spezia e una a Milano per degli episodi avvenuti in via Gioberti nella primavera del 2017. Si parla di cellule, si parla di dissidenti, cerchiamo di scoprire come sono andate avanti le indagini. L'episodio dell'aprile del 2017 è stato gravissimo per la nostra provincia perché ha determinato una brutale aggressione da parte di 11 persone. Noi riteniamo 11 persone tra Spezzini e Milanesi che ha provocato diverse lesioni a due militanti di Casa Pound ma anche a ignari cittadini che si trovavano a consumare intorno alla mezzanotte un panino, una bevanda. Le indagini sono state particolarmente complesse coordinate dal procura di La Spezia e con la direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Le indagini hanno portato, oltre a un arresto già effettuato di una persona, anche a questa, diciamo ieri, ad aver eseguito queste due ordinanze, una a Milano e una alla Spezia, a carico di due giovani che facevano parte di questo gruppo criminale. Dalle vostre indagini avete ricostruito questo legame tra La Spezia e Milano, queste persone erano ben organizzate, il fatto di via Gioberti era stato programmato e pare che ci sia anche un loro coinvolgimento nei disordini del G7 di Lucca. Sì, noi sospettiamo che questo gruppo che si stava formando, che si era formato, che si chiamava Dissidenti La Spezia, è la persona che è stata oggetto di ordinanza di custodia, diciamo di obbligo, di dimora, è proprio l'anello di congiunzione tra gli spezzini e i milanesi. Questo gruppo aveva già anche agito al G7 dell'economia di Lucca in occasione dei disordini che ci furono e verosimilmente si stava preparando per altre azioni, teorizzando appunto l'azione diretta e violenta.